in diretta dal salone delle feste del comune di san sicario gemellato con molpetta la lion golden meyer presenta leone disco dance mi vuoi dare qualche aspirina sembra capa che gira e gira ancora e c'è ma forse è un'influenza una limonata non mi faccio con quei limoni che mi hai dato tu ma mo bevo ah ci sa se mi passa eccoci in discoteca per la consueta intervista a leone di lernia il guru proprio il principe della musica italiana leone leone scusa abbi pazienza la gente è curiosa è curiosa delle tue abitudini di mattina appena ti svegli cosa fai cosa faccio di mattina il gargarismo ti ascolti di questo qua che ti fa bene a te le bestie proprio le bestie salutiamo a sorte ciao